io devo l'unica ok ho sbagliato mario non allontanarlo ho sbagliato ok ho sbagliato lì però io da parte mia ho visto sempre che mi sono comportata come una persona ho trovato una persona con cui rilassionarmi mi ha capita mi ha ascoltata mi ha fatto ridere ma che abbiamo scherzato mi ha fatto passare 20 giorni più tranquilla perché dopo due giorni ho visto un tuo pinnetto basta dare la colpa a me due anni e mezzo che andiamo avanti che io mi prendo le dicendo basta tu non hai fatto così perché dopo tre giorni perché dopo tre giorni hai visto un pinnetto mio io sono delusissimo da te delusissimo ho pianto mi sono in c***o sono delusissimo io non ti riconoscevo non ti riconosco nemmeno adesso non so i tuoi occhi te lo giuro e l'ho detto a me non sembra Andrea quello cosa vuol dire che Andrea ha gli occhi più diversi ha gli occhi cattivi diverso è diverso non è così lui non abbiamo mai discusso così noi mai mai quindi non l'ho mai visto così